ciao a tutti e benvenuti oggi siamo qui per parlarvi dei giochi gratuiti in arrivo per gli abbonati al prestation now di dicembre 2021 questo mese avremo cinque giochi in aggiunta al catalogo tutti e 5 versione ps4 giocabili quindi sia in streaming sia dopo il download sulla propria console ps4 o ps5 e saranno disponibili tutti da 7 dicembre 2021 iniziamo subito il primo gioco in aggiunta sul prestation now e gta 3 definitive edition per capirci la versione rimasteizzata di gta 3 inclusa nella gta trilogy remastered uscita qualche tempo fa il gioco è ambientata a liberty city città fittizia nel 2001 anno riuscita nell'originale controlleremo un criminale di nome claude intenta rapinare una banca insieme alla sua fidanzata fidanzata che purtroppo tradirà la nostra fiducia finendo col farci arrestare anche se il tutto non durerà molto visto che claude riuscirà a evadere rapidamente iniziano a lavorare così per la mafia italo americana in origine il gioco è stato pensato proprio con uno stile cartoon quindi si può dire che con questa remaster si è completato il progetto iniziale come in ogni gta il gameplay si compone di diverse missioni possiamo rubare auto e ingaggiare sparatori varie con tante bande criminali famiglie mafiose e persino la yakuta proveremo sicuramente gta 3 quindi aspettatevi almeno un gameplay e se vi interessa giocarlo vi ricordiamo che sarà disponibile sul now dal 7 dicembre fino al 31 gennaio secondo titolo per ps4 doppio titolo in questo caso è la collection in hd di final fantasy 10 che include sia l'originale final fantasy 10 che il suo sequel diretto final fantasy 10 2 le trame senza spoiler sono le seguenti in final fantasy 10 vivremo la storia di tylus campione di blitzball che con l'aiuto dell'invocatrice yuna dovrà salvare il mondo da un ciclo infinito di distruzione causato da una minaccia di nome sim in final fantasy 10 2 invece controlleremo yuna il tutto due anni dopo gli eventi del primo capitolo è diventato una caccia sfere si unirà riku e pain due sue amiche per un viaggio intorno al mondo cercano di scoprire l'origine di un misterioso filmato entrambi sono due giochi di ruolo giapponesi con sistema di combattimento a turni abbiamo giocato diverse volte final fantasy 10 e possiamo confermare che è veramente un buon titolo su 10 2 non abbiamo mai avuto modo di approfondirlo forse sarà questa la volta buona terzo titolo disponibile per ps4 e john wick ex gioco action di strategia basato sui film di john wick il gioco vi è indicato come uno strategico in tempo reale questo perché dovremmo controllare il nostro personaggio attraverso una griglia che ci permette di fare diverse azioni per colpire i nemici ed evitare i loro attacchi nel gioco controlleremo john wick incaricato di distruggere l'organizzazione di ex mente criminale che ha creato un suo dominio tra la svizzera e new york infine spit links party game folle e senza senso dove controlleremo uno spit link ovvero una creatura rettangolare con denti che può sputare e saltare il gioco è un arcade estenuante che ci permette di giocare centinaia di livelli in cop locale e online il tutto per sbloccare nuovi personaggi brani e temi per personalizzare il mondo cosa ne pensate di questi giochi gratuiti per il mese di dicembre 2021 siete soddisfatti oppure no fatecelo sapere con un commento e se il video vi è piaciuto vi invitiamo a lasciare un like condividere e iscrivervi alla prossima ciao ciao ciao